Non esistono progetti a impatto zero, questo è chiaro. Dove ci sono impatti e prezzi da pagare devono essere adeguatamente compensati, adeguatamente indennizzati, perché è chiaro che ogni singolo cittadino ha il diritto di non dover pagare lui per il benessere collettivo, ma di essere indennizzato e su questa misura che dobbiamo cercare è una mediazione, una sintesi che è assolutamente necessario però trovare. E quanto ha ribadito questa mattina dall'anno il presidente della regione, Marco Marsiglio, rispondendo ai cittadini, agli imprenditori proprietari degli immobili costruiti a ridosso della ferrovia che dovranno essere demoliti per consentire di raddoppiare i binari e realizzare così il progetto di potenziamento della linea ferroviaria Pescara-Roma. Il governatore Marsiglio ha deciso di effettuare, proprio usando il treno, nella giornata odierna una serie di sopralluoghi nei comuni di Scafa, Alamno, Manopello, Chieti e San Giovanni Tiatino interessati dal progetto di RFI. Qual è la situazione attuale? Noi stiamo proseguendo in questo percorso di verifica puntuale sul territorio, punto per punto, criticità per criticità, per dare un contributo e migliorare il progetto che è stato presentato a RFI, che prevede per la tratta tra Pescara e Sulmona la trasformazione in una sorta di metropolitana di superficie, cioè con treni che camminino con una frequenza importante, almeno ogni 30 minuti e con una maggiore velocità. Considere che io questa mattina, anche per sperimentare personalmente lo stato dell'arte di che cosa è oggi il servizio ferroviario, ho preso il treno a Pescara alle 8.25 e sono arrivato a Scafa, cioè praticamente una trentina di chilometri, in quasi un'ora. Un treno che viaggia a 25 km all'ora è un'indecenza. Io credo che l'Abruzzo abbia diritto e bisogno di un treno efficiente e moderno. Stiamo negoziando e trattando e discutendo con il Ministero per avere realizzato questo diritto che per alcuni è anche un sogno. È chiaro che tutte le opere hanno un impatto, dobbiamo lavorare per mitigare al massimo questo impatto nei limiti del possibile ed è quello che facciamo, continuando anche a fare questi sopralluoghi insieme ai tecnici di Italfair, di RFI e del Dipartimento dei Trasporti della Regione che lavorano sulle carte, oltre che nei sopralluoghi e nel confronto diretto con i cittadini e con i sindaci, con le amministrazioni locali per vedere appunto di fare in modo che tutto il progetto possa avere il minimo impatto possibile.